Come protagonista siamo tutti protagonisti, perché qua siamo una famiglia. Io mi sono avvalso anche il vecchio e il giovane, io con le mie idee e lui con le sue idee innovative. Allora io mi sono occupato della Fiera di San Vito dal 1998. Il mio sogno è stato sempre di cambiare, non ho mai avuto la possibilità o non me l'hanno dato. Non voglio fare una critica. Fortunatamente sto con questo ragazzo, perché il ragazzo potrebbe essere mio figlio, per me non è il sindaco, per me è un amico. Io ho detto, Stani, io voglio cambiare tutto. Mi ha detto, Tonino, tu c'è la delega, fai quello che fai, hai tutto il mio appoggio. Allora, noi come Comune non abbiamo abolito la Fiera. Stiamo cercando di rimodellizzare questa bellissetta Fiera, perché fuori io merita di più. Alla vera turista, chi viene, non deve vedere questi, io li chiamo signori, che sono tutti lavoratori, questi che vengono da Napoli. Non mi permettono mai di dare degli aggettivi impropri. Allora, siccome noi nel nostro Comune abbiamo un mercato che si fa sei giorni su sette, gli altri giorni, due giorni, stanno sulla frizione di panze, questi signori erano gli essensi che si mettevano nella Fiera di San Vino. Allora ho pensato, ecco, di cambiare e con l'aiuto di David e con il sindaco di fare delle cose innovative. Allora ragazzi, amici di fuori, per me è una scommessa. Se ho sbagliato qualcosa, dopo io umilmente chiederò scusa a tutti.